se amiamo fare cascate di ghiaccio utilizziamo spesso le viti e spesso ci sarà capitato di avvitare in un punto dove il ghiaccio non era particolarmente spesso per cui la fresa è finita sulla roccia e in quel momento si è spuntata una volta che si è spuntata la vite perde tanto della sua utilità e per fare in modo che sia efficiente dobbiamo imparare ad affilarla quindi per affilare le nostre vite è necessaria veramente pochissima annualità è una piccola lima che possiamo prendere in qualsiasi ferramenta è una lima triangolare da ferro ora vi faccio vedere il procedimento nel particolare per cui appoggiamo la nostra lima perfettamente su una pagina dell'angolo e poi applicando una pressione decisa la facciamo scorrere verso l'alto una volta che abbiamo dato due o tre colpetti giriamo andiamo sull'altro lato che oltre ad essere spostato di 90 gradi è anche inclinato un po verso l'interno per cui dobbiamo fare attenzione a far sempre appoggiare molto bene il piatto della lima sulla superficie che vogliamo limare e anche qui con decisione limiamo verso l'alto e così facciamo per tutte le punte il procedimento è una cosa che è piuttosto veloce nel giro di un minuto al massimo due abbiamo rifatto tutte le punte della nostra vite e vi assicuro che funziona molto bene